Prosegue senza sosta l'attività di visite mediche casa per casa, portata avanti dall'equip del dottor Luigi Cavanna e del caposala Gabriele Cremona, nonché dalle altre squadre di operatori sanitari dell'ASL di Piacenza, che raggiungono direttamente a domicilio i pazienti affetti da Covid-19, con un kit di farmaci e strumenti diagnostici pronti all'uso. Un intervento sul territorio, a domicilio dei pazienti, non tanto per fare i tamponi, ma per fare la diagnosi e la cura delle persone malate di Covid. Abbiamo distribuito i farmaci a base di antivirali, di idrosiclorochina, fatto la cura del torace, abbiamo lasciato dei saturimetri e molte persone, la maggior parte di queste che abbiamo visto, verranno curate a domicilio. Per il dottor Cavanna bisognerebbe credere ancora con più forza nelle task force sanitarie che si recano nelle abitazioni delle persone. I risultati infatti sono evidenti. Si evita a molte persone di arrivare al pronto soccorso e di arrivare con malattia avanzata e con broncopolboniti che a volte diventano irreversibili. A partire da mercoledì scorso l'ASL di Piacenza ha attivato in maniera sistematica quattro unità speciali di continuità assistenziale. Ne fanno parte operatori selezionati su base volontaria che vengono allertati dai medici di famiglia. Non esiste quindi un numero di telefono da contattare.